mi ha fatto un danno di su mano prima ah ovviamente Swampert ma ci mancherebbe eh ci mancherebbe ma si 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 no 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 50 cura si attento caster lia rimperius ti ha infettato pure Tangia è evidentemente programmata per distruggerti come streamer Arcanine il canaino bro mi dai mi dai il canaino io devo ancora fare quella quest lì che non farò mai probabilmente che merda cioè il punto è che non ha mosse quindi Roserid può farla questa arbitro aspetta Roserid può farla questa si vero oh la vani in luxa però damn arbitro questa è forte può essere forte però la la Roseradi è su L la blindo via che danno è bro c'è un attacco che è disumano quel Roserid è assurdo l'attacco di quel Roserid Evie oh c'ho una stone cazzo ma una rank con Galvantula non me la fanno fare no a quanto pare no la rank con Galvantula non me la fanno fare vorrei un bel Galvantula con il Thunderbolt la Roseradio vorrei c'è un attacco che è disumano è altissimo ah vabbè sto Galvantula è orrendo perché non c'ha mosse avesse Flamethrower e Aurasphere era buono c'è Focus Blast e Ember perché abbraccio destra di Incineroar di Incineroar vediamolo no non scauto un cazzo prendo questo che è un attacco disumano infatti è 28 buona read puttana mi ha fatto un danno disumano di Taislap questo prima questo è forte Sire questo è molto forte solo che non c'ha mosse cioè ne ha due ma boh tocca vedere se passa il bosco innanzitutto Tonight the Music Simpsons adesso rischio di morire in sto modo cazzo bro cioè io ora non posso fare Wild Charge perché piglio Recoil e mamma mia però cioè se lui ora è più veloce di me mi attacca io vado a due di vita e piglio Recoil quindi ho per forza forte di slap knockoff è una mossa di merda ma è una mossa almeno meglio di splash mingi questa è forte di stazzo Sire l'imperio dammi un cazzo di Leaf Blade Seat Bomb Leaf Blade qualcosa va bene uguale è il take both madonna che merda parasection 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 5 hit belle ma cioè io tanko bene mi mancano 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 le mosse tonight the music seems so loud 16 nice buono no no noi vogliamo Leaf Blade e Poison Jab qua Poison Jab e Leaf Blade vogliamo knock up bro vogliamo le sontuose le stab vogliamo le stab 32 48 più di 3 volte livello di attacco huge ah fanno 1 e 1 è orrenda sta roba per me 2 detect di fila assegno il boss qua 1 di vita e mi carita di hyper voice agliendomi un fracco dai bello complimenti rinperius 2 hit e rimane a 1 di vita vediamo ma l'Europa League quando la fanno già tipo stesero è solo il giovedì non ho seguito nulla per quello chiedo nice ma poi te di slap una gran mossa eh di slap è forte sei nel target di dragon rage vabbè mi fai un dragon rage e muoio mi fai un dragon rage e muoio ma anche ti devo dire bro cioè nice mossa it's hard eh peccato che abbiamo missato tre mosse su tre perché altrimenti eravamo forti così purtroppo bro non si è in granché pulito 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 Hastoro mi fai un dragon bones mi fai un dragon medium Buono 35 punti fatti dal Roseradio Let's see Uno di vita Deve rimanere sempre uno Abbiamo una mossa il 22 Speriamo bro Cioè ormai muoio Mini-mezzo è forte Mini-mezzo è una buona colda Brock Focus Blaster è una merda dai 1.3 per Sheer Force Oh ragazzi Here we go Let's see Mini-mezzo è una buona colda Brock Cioè per provare è buona Una buona mossa Vai dai Dai però zio c'è Serve non prendere danni i primi trainer Che cure ho aspetta Pozza Ah è vero mi ha dato pozza il tipo Sì Ho delle Barry da dargli Ho X-Defense dopo se voglio Io da Brock dovrei fare il mini-mides Ma perché rimangono sempre uno Ok 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 Brother Questo non lo tiro più su ora Ho un etere Ho un etere Etere desir Devo crittare di brutto Ah io sicuro Se voglio avere chance Devo andare a più 6 di Evasion qua Cioè Ah no Mini-mezzo da più 2 Ma porco Devo fare X-Defense qua Ma tanto qua devo crittare Per tirare giù questo zio Cioè Poi si è misso C'ho l'elisire eh Ma come fai Tarmi bro C'ho più 6 Già non ha neanche centacura Sì quella mossa Cazzo Dai Ok ci siamo Arbitro Il crit Che serviva Secondo me siamo in bolla eh Ora No non ci credo Cioè Non ci sto credendo bro Eravamo a più 6 di Evasion C'è tanto Non ci sto a credere bro Cioè Non ci sto Ma davvero Ma si può sta roba Non è possibile Cioè Cioè io mi sto rifiutando Di crederci vero Lascia stare dai Merda assurdo Assurdo Veramente assurdo Ma come Endeavor Cazzo Minimize non ha senso Mancano due mon Cioè vabbè Un minimize ci sta Secondo me Per capire che mossa Fa lui Fa solo Endeavor Ma Endeavor A cento A infinita accuracy Sì o può missare Devo fare T-slap Fin quando Non ha circa Meta vita E poi fare Wild charge Dopo Idealmente Mi sta crittando Cioè sto a più 6 D'accuracy A più 6 Di robo Cioè Zio Secondo me serve Un altro T-slap Into wild charge Buono Porca troia Primo pokemon Golem Al 12 Su cui non c'ho mossa Aia Aia vabbè Cioè Sta a livello basso Servirebbero mosse Che non ho però 27 La prossima Questo può farla Questa no Vero Delle mosse Per quello Lo stiamo trastando Anche Na 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 Dai metti Era una merda Era Roar Tipo Roar Non mi state 3-4 Di fila Non lo so Nice Live is life Everybody No non pippo Fraz E a calcio Sono decisamente Meno forti Per cui Dubito No Che scam Ero Vabbè Questo mi ha fatto Metà vita Di danni Di abilità Di merda Che c'è la passiva Che mossa Vuoi Leafblade Cioè Vorrei Leafblade Non ne hai imparata Una umana Zio cane Finora Di mosse Vediamo Vediamo la mossa Close combat È buona Però Close combat Cioè Secondo me Minimize Ora Ma potremmo Ma potremmo anche Levare Era buona per Brock Ma overall Nella run Non so Non so quanto Torni utile Minimize Cioè Sinceramente È forte Però Secondo me Potrebbe essere Una buona call Per fare qualcosa Minimize Solo che Ho tolgo Knock off E mi tanco Il fatto Che muochi Da shedinja Che ci stanca Tanto Voglio dire Sti cazzi Se succede Succede E Se succede Succede Close combat Sicuro la metto Bro Sicuro la metto Close combat È fortissima È fortissima Close combat Cioè Ho tolgo Knock off Mi tanco Il fatto Che da shedinja Muoio Ci stanca Però sicuramente Minimize Forte Anche dai capi palestra E da ste robe qui Allora A barra che Minimize Lo fai Su shedinja E stai Ciccino Tolgo No Most Fucking Coming Io chiamo La La stab Dal mimo Addirittura Mr. Mime Che mi stab Qualcosa Oh ci manca Un avvelenamento Ah beh Non lo possiamo fare Su questo Per finire La quest Del veleno Cazzo Oltretutto Forse devo fare Minimize Quanto meno Provare Cioè Arbitro È vergognoso Però Vero Cioè È veramente Assurdo Tutto ciò Vero Crit Va bene Dai Cioè Cioè Ero A 90 Coresi Due Minimize Fatte Quindi Più Quattro Di Evasion Attacco Speciale Droppato Crit Incredibile Oh Che cazzo È Tutte Ste Uova T Ero